L'impatto frontale tra l'automobile e il camion è stato devastante. L'abitacolo della Citroen è ridotto ad un ammasso di rottami e non ha dato scampo a Guido Montibeller, 83 anni, di Novaledo. L'incidente è nel primo pomeriggio lungo la statale della Val Sugana, nel tratto a due corsie a Campiello di Levico Terme. La causa dello scontro non è certa. L'anziano automobilista era diretto verso casa a Novaledo. Il guidatore del camion ha riferito che all'improvviso l'automobile ha invaso la corsia opposta. Una disattenzione forse o forse un malore. Inutile la frenata del pesante mezzo carico di ghiaia. Nell'impatto Guido Montibeller è morto sul colpo. Il leso l'autista dell'autocarro che è risultato negativo all'alcol test. Sul posto, oltre all'eliambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri di Borgo per i rilievi del caso.